esercizio velocissimo per potenziare nello stesso momento colpi singoli e colpi doppi lo puoi fare dove vuoi quando vuoi e ti assicuro che già dopo pochi minuti di questo piccolo esercizietto inizierai a sentire che stanno lavorando i tuoi avambracci come in questo modo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 colpi singoli mettiamo la prima nota accendata in questo gruppo di tre questo per i colpi singoli dopodiché andiamo a raddoppiare tutti i colpi mantenendo gli stessi accenti quindi suonerà così 1 2 3 1 2 3 in velocità ok si può andare ad alte alte velocità adesso metto la parte in cui rimbalza se ti interessa questo pad trovi il link in descrizione questo esercizio è utile perché portato ad alte velocità diventa molto impegnativo ed è una sfida per per il nostro controllo quindi e tu come fai per allenare colpi doppi e colpi singoli fammelo sapere nei commenti e se non conoscevi questo esercizietto e lo proverai anche di questo fammi sapere se ti è stato utile ciao ci vediamo al prossimo video